Il nostro canale è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' scritto e interpretato tragicamente rosso, appunto un testo sulla violenza delle donne che deputiamo 7-8 anni fa addirittura. E stiamo andando avanti poi per tutte le città più importanti d'Italia e continueremo appunto anche nel nuovo anno. Anzi, inshallah come dicono in arabi sempre, ci vuole sempre. E a Tuscania faremo nel teatro rivellino di Tuscania tre gigamente rosso. Qua è non parlare di un testo che ancora dobbiamo provare e si intitola Claire La Rouge. A verde e cacao. Si, con cacao e con... Anche cascagna. Anche cascagna, insomma. Sì, lì, sì. Beh, insomma, a parte questo incontro con Michela, proprio io vi parlerei, insomma, anche quanto... E' bello comunque questo fatto che voi vi siate incontrati in qualche modo, no? E arte, due arti così affini, ma anche così diverse. Che cosa ti ha lasciato la zanarella? La zanarella, abbiamo iniziato la nostra liesson. La liesson, ma te scelte l'ora. Praticamente litigando. Perché io ero stato interpretato e interpellato per leggere tutte le poesie dei poeti partecipanti. Iniziava dalle nove della mattina al teatro in scatola, qui a Trastevere, per finire alle venti, eccetera. Da là alla zeta. Arrivata alla zeta, io stavo senza voce, sinceramente, la sala era stracolma di gente, anche seduta non sulle poltrone per terra e in piedi. Arrivato a lei gli ho detto, senti, scusami Michela, ma stavo senza voce, dovresti leggerti la tua poesia. Non sono timida, tutta rossa, eccetera. Cioè, è vero che me lo ricordo, non c'era io quella volta, ma mi ricordo quando mi chiedeva. E mi disse, oh Dio, Dio. E purtroppo la dovete leggere lei. Dall'odio, all'amore. Sì, quando ci siamo incontrati in seguito e abbiamo iniziato a collaborare. Lei, appena arrivata a Roma, venne accolta al teatro Argo e interpretò Michela Zanarella in Recital. E lì coinvolgemo tutti artisti come lei, come altri artisti della televisione e del cinema. Ma una cosa veramente bella. Ma io mi ricordo ancora prima, quando Michela, che cos'era, sempre una cosa della Shoah? Sì. Ed era tutta rossa, perché ancora, ti ricordi, si vergognava a leggere, se è bravissima. Ma le cose ancora rossa? Beh, adesso perché è caldo. No, perché deve grappa. No, non è vero. Senti, parliamo di, appunto, qui abbiamo tantissimi poeti, quanto è difficile leggere, c'è una castagna dietro il titolo, sì. E quanto è difficile, quanto è bello leggere le musie degli altri, quanto è facile, quanto è difficile il rapporto con i poeti, a parte Zanarella, ce l'hai in casa? Diciamo che io, che vengo, ecco adesso esce fuori il leggo, ma non è questo, ma è soltanto per parlare, vengo dall'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico, dalla quale è vicino Vittorio Casma, Monica, i grandi del teatro e del cinema italiano, avevo l'ingrato compito di leggere all'impronta. Orazio Costa e Luca Ronconi dicevano chiamiamo il tinca, cioè è vero, quello che praticamente deve rompere il ghiaccio e leggere all'impronta. Quindi mi davano qualsiasi cosa da leggere all'impronta. E vedevo che i miei colleghi, che erano, insomma, la Marchesini, poi tantissimi, tantissimi e importanti, mi guardavano così, come per dire, ammazza questo, è chiaro. E quindi praticamente, ecco, mi metto adesso, in questo momento, a vostra disposizione. Se avete voi una poesia da leggere, la leggo veramente. Numerose fontane, al ritmo dei passi del mio respiro, ogni di dissetata dalla nuova riflessione, la cupola, ti ammanta, ammaliatrice, bussola del centro, abbraccio disteso all'infinito, il tenero fiume muta lo sguardo, si turba di cupi pensieri lungo le cancellate, lungi miranti, invece, al castello dell'angelo, a sua guardia, eterna sovrana discesa dai suoi colli, Dea, sinepri di gloria, alla discesa del Campidoglio, soffio i pensieri e gli affanni, caparbio trono del sole, la quadriga sfreccia sui fori, verso le spade guerriere di Montecitorio, lungo Tevere, attraversa la schiena della bruna Madonna, senza tempo è la storia, la superba bandiera, ancora intrisa di sangue, agli incei assisa al trono dell'eterna città, libera e sola, vestale e santa, Dea e regina, eroina e mondana, dono ancora il suo sguardo di compiuta bellezza. Bellissima la poesia, è bravissima. Questo dipende dai sentimenti del poeta che esprime e incide nella carta l'emozione che vibra in quel momento, ispiratrice alla sua poesia, grazie. Grazie a te, Giuseppe, invece ancora non ci hai detto il tuo incontro a livello artistico, insomma quanto ha dato a te, a me piace quando senti le foto e scrivi tanto a me la poesia, perché era realmente la poesia, no? Con la P maiuscola, doppia P maiuscola. Mi emoziono perché vivere con Michela è imprimere appunto dei segni forti nella propria anima, e nell'anima dei suoi lettori. Scusami, ma io non ce ne ho capito. No, no, è proprio vero. È un grande amore. È un grande amore che poi mi è veramente... Che bellezza, è l'esperienza. Che bene Michela, io la conosco, abbiamo fatto tante serate insieme, conosco la sua emozione, conosco il suo impliting proprio sulla poesia, quella marcatura, come dire, verace di cuore e mentale. Sì, ma poi ecco, una cosa che la contraddistingue è l'umiltà. È quello, è l'umiltà. Io la conosco per lui. Lei, veramente, adesso lo dico, lei è la presidente della rete italiana per il dialogo del Mediterraneo e partecipa agli incontri alla Farnesina. è la presidente del premio internazionale Le Ragunanze, che sono otto anni che il comune di Roma mette a disposizione a lei Villa Panfili per la cerimonia di premiazione. Le Ragunanze è un termine barocco usato da Cristina di Svezia, tant'è vero che l'ambasciata di Svezia ci ha dato il suo patrocinio, così come la regione Lazio, il comune di Roma, il dodicesimo municipio, Gole in informazione, è un spettacolo dove la coreografa, in questo caso, è attrice, ha coinvolto dei gruppi polietnici in danze, canti, recitazione e dei pezzi recitati da lei, che è veramente... Escritti da te, grazie. Un applauso ancora a Giuseppe. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Grazie a lei. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.